avanti dai porco dici da poco furminato avanti a me corri corri no da poco ha preso poi il piede sinistro o il destro vabbè ah sta botta sarto vabbè sto saltando sul troppo mamma mia è proprio c'è l'anima mamma mia è pochissimo allora ascolta c'ho un po' d'ansia ma chi cazzarola so un ninja una ruota gigante destra o sinistra vada tempo no non l'ho premuto olè facciamo così ho capito ho capito allora allora qua sdanghe di mo venga c'è mamma mia devo allora questo lo spingo qua lasciamo così c'è poco tempo c'è poco tempo no porco dici mo sbrocco ah questa la sposto qua ma non c'ho tempo perciò aspetto arrivato quasi morto corri 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 ragazzo laggiù ora salto salto disbrigati altrimenti vengo secato subito mamma mia uuuh cazzo cazzo emma mi è raggiato sì pure è gravitato ci avremo questo subito come cazzo sarò la fascia ok ho capito praticamente mentre scade il tempo vado a correre bam ok spiegate che crottinci mutilato bam combo intragliato e lasciacchiato aspetta aspetta sta botta aspetta mamma acciaccato ma è impossibile vorco dici il tempo giusto dobbia ok adesso ci sto rallentatore che cazzarola è successo magello che cazzarola è successo ah niente nemmeno può fare a sto pezzo nemmeno può fare codici codici no ok qui c'è stamo ubrirò mas porco dici di poco di tutto fordorato e tritato come cazzo lo faccio qua aspetta per forza così 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 sfondo la patere vabbè bombo si è spaccato non ce l'ho fatta che devo sfondare la parete sicuro no sta botta di gnappi cosa fa no dopo 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 porco dici mannaccia miseriaccia non ce la fece limbo devo rompare da tutti i costi io ho capito devo prendere più rincorsa no c'è una misericordia c'è una misericordia troppo sto lì in bobo con mille pezzi ok vado eccolo eccolo che succede che succede vedi che ho finito il cerco vabbè vabbè si è spaccato le gambe limbo e praticamente finì sulla sede arterile non l'ho capito sarei bloccato sono morto limbo fammi sapere che cosa è successo maledizio niente cosa risvegli ricomincia il lupo del gioco è finito così ma cosa è risvegliato alleluia una bambina ecco ora fa sesso giustamente ha chiuso perché deve fare sesso con la donzella beh il gioco è finito devo dire che niente male inigmi parecchio difficili ma abbastanza corto è finito è finito